per fare la presentazione, per essere sicura che tutto era giusto. Va bene, allora buongiorno Carolina, oggi è l'11 maggio del 2020 e noi siamo qui di nuovo in collegamento in remoto con le persone che stiamo intervistando in questo periodo per Fylde Stroke, perché appunto siamo in epoca di emergenza Covid-19, quindi sia qui in Italia dove ci siamo in epoca di emergenza, quindi sia qui in Italia dove ci siamo in troviamo noi, che in Francia dove si trova Caroline Leclerc che è il nostro ospite di oggi, siamo appunto tutti in periodo, in fase di lockdown. Allora due regole Caroline prima di presentarti, la prima regola che ci diamo del tu, ma questo di solito anche parlando lingue straniere diventa ancora più facile, e l'altra regola che ognuno è consapevole del proprio ruolo, quindi io sono un genitore per cui ho pochissime conoscenze per quello che riguarda addirittura un tema così specifico come la chirurgia della mano, per cui immagina di avere di fronte a te dei pazienti o dei caregiver a cui devi spiegare in un linguaggio molto semplice, ma avendo già parlato con te so che questo è possibile. Allora io farei fare la tua presentazione, se ci racconti qualcosa di te, perché noi ti abbiamo scelto, perché sei una delle massime esperte per quanto riguarda la chirurgia funzionale della mano, che è uno dei temi più importanti per la riabilitazione dei bambini con paralisi cerebrale infantile di cui noi ci occupiamo, quindi raccontaci tu. Buongiorno, grazie per il complimento, io sono come tu dicevi francese, sono nata in Francia e ho fatto tutte le studie di medicina in Francia e da un sacco d'anni, non dirò quanti, sono chirurgo della mano e dell'arto superiore, diciamo, ma piuttosto mano e la parte distale e da più o meno 20 anni ho cominciato a trattare della, noi la chiamiamo neuroortopedia, neuroortopedia vuol dire tutto quello che riguarda i problemi di nervi, di paralisi e tutti questi problemi della funzionalità dell'arto superiore, sia seguendo un danno, un trauma o sia in questi casi di paralisi cerebrale dei bambini o stroke nei adulti che alla fine hanno un po' lo stesso tipo di danno e da sette anni penso sei o sette anni ho cominciato a lavorare con colleghi italiani a Treviso e a Mestre vicino, molto vicino a Venezia e insieme poco a poco abbiamo cominciato questo gruppo che si chiama Manus e che tratta anche del stesso tipo di cose di neuroortopedia, adesso ci incontriamo una volta al mese, facciamo visite e facciamo anche interventi, faccio la stessa cosa a Parigi, lavoro molto con centri reabilitativi dove ci sono bambini, ragazzi e vediamo questi pazienti insieme ai medici, ai fisioterapisti eccetera nel centro, nei centri, che è una cosa che a me piace molto perché mi sembra di essere il migliore modo di capire tutto quello che forse si potrebbe fare sul punto di vista chirurgico. Su questo allora ti faccio una prima domanda, noi vediamo pochissimi pazienti nell'ambito della nostra associazione, quindi delle attività che facciamo che hanno avuto bisogno di ricorrere alla chirurgia funzionale, come mai la chirurgia funzionale della mano è poco praticata o forse poco proposta dai medici come soluzione, almeno per quanto riguarda il panorama italiano, non so se in Francia o in Europa è diverso. È vero in Italia, è vero in Francia, forse è ancora più vero in Italia, è una chirurgia giovane che è nata poco tempo fa e devo dire che all'inizio ci sono state prove, hanno provato a fare qualcosa e i risultati iniziali non sono stati tanto bene e allora parlo degli anni 70-80 e allora è caduto perché dopo questa esperienza hanno pensato che non funzionava, che non valeva la pena. Da l'inizio e la fine degli anni 90 o l'inizio degli anni 2000 altri colleghi hanno ricominciato a pensare a tutto questo prendendo le cose in un modo diverso e provando diversi interventi e questo è stato molto più… ha dato migliori risultati, evidenze. Ha dato risultati molto migliori e allora abbiamo cominciato a riflettere, a pubblicare i nostri risultati e devo dire che anche io da 15 anni ho cominciato a fare interventi che non venivano fatti prima e che sembrano di avere risultati molto interessanti, ma devo dire che il problema principale che abbiamo soprattutto per bambini è convincere i nostri colleghi medici sia di base sia fisiatri dell'interesse, del valore di questi interventi. Per questo motivo adesso lavoro in centri e così la discussione è molto più facile e con questi centri va bene. Quindi lavorare in un'equipe multidisciplinare. Sì, ma conosco delle città e delle zone in Francia dove non si fa niente. bene, almeno su questo siamo accomunati da questo tipo di background, diciamo che hanno anche le famiglie perché poi le famiglie ormai cercano informazioni anche al di là del confine regionale o del confine del proprio paese e della propria nazione. Io se sei d'accordo, Caroline lascerai a te, so che tu hai delle slide, se vuoi ci racconti un po' quello che possono essere i problemi principali che afferiscono appunto a questa sfera delle problematiche legate all'arto superiore dei bambini con paralisi cerebrale infantile. Condivido la tua presentazione. Perfetto, perfetto. Facciamo così, facciamo un po' di slide e dopo possiamo parlarne un po'. Sì. Se hai domande. Volentieri. Allora, come lo vedete qui, si parla della chirurgia funzionale. Cosa vuol dire funzionale? vuol dire la chirurgia che permette al paziente di migliorare la sua attività con questa mano debole o che non funziona bene. Ma vedrete dentro la mia presentazione che a volta facciamo anche dei interventi per altri motivi. Questo ne parleremo. Slide. Non torniamo indietro di tutto l'argomento della spasticità, ma dobbiamo ricordarci che la spasticità è un aumento del tono di alcuni muscoli, non tutti. Allora, si risulta in un squilibrio tra questi muscoli che hanno troppo tono, che sono troppo forti in un senso ed altri muscoli che non sono spastici e che diventano un po' debole. E questo è la cosa che crea la deformità. Perché ne parlo? Perché il nostro scopo in questa chirurgia è di riestabilire l'equilibrio tra tutti questi muscoli. Slide. E allora questo squilibrio fa la deformità che probabilmente voi conoscete bene con la spalla che viene tutta in aduzione contro il tronco rotato all'interiore, il gomito che si flesse e il polso che si flesse o si flette. Non mi ricordo. Flette, si flette. E torna in basso con questa deviazione ulnare che vedete nella slide di destra all'opposto del police. Slide. Su questo, Caroline, ti interrompo per farti una domanda. Perché spesso molti genitori ci riportano a seguito, anche senza andare verso deformità, quindi ancora in bambini molto piccoli, però ci riportano sensazioni di fastidi, di tremori, di formicoli da parte del bambino sulla mano, sul palmo della mano, sul polso. È qualcosa che è dovuto a queste posture oppure che ha origine diversa? Questa è una domanda difficile. Non tutti hanno questo tipo di sensazione. C'è una grande parte di loro che dicono che non hanno niente dolore, ma a volte hanno una mancanza di sensazione. Quando vogliono toccare le cose non sentono bene. E questo è anche dovuto al problema cerebrale. Ok. Ando avanti con la slide. Sì. Allora, per le dita vedete che la deformità può essere molto, molto diversa e bisogna capire perché le dita vanno sia in flessione sia in iperestensione e capendo questo abbiamo forse la possibilità di trattarla di upslide. Per il pollice, la deformità usuale si fa come si dice con il pollice nel palmo, con questo pollice che viene di fronte alle dita e che ovviamente impedisce di utilizzare la mano in modo giusto perché c'è questo pollice nel cammino. C'è una spiegazione, Carolina, a queste deformità, a queste posture particolari? Sì. Non arriva bene il collegamento nervoso e quindi perché il pollice si ritrae in dentro? Allora, per il pollice, per esempio, ci sono questi muscoli che si chiamano i muscoli della prima commissura che sono tra il pollice e l'indice che hanno questo ipertono, troppo tono e allora i muscoli mettono il pollice in questa posizione adutta, si dice adutta. Ok. E ancora una volta è una cosa di tono eccessivo. Ok. Allora, facciamo un minuto di anatomia, ma probabilmente voi conoscete già tutto questo. c'è prima il, come si dice, scheletto? Scheletro. 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 E vedete com'è un po' complicato con tutti questi ossi nella mano e seguito nell'avambraccio del radio e dell'ulna, cubito o ulna, si chiama, ha due nomi. Slide. E poi ci sono le arterie in rosso su questo slide che non hanno niente a vedere con la spasticità e la paralisi cerebrale, loro funzionano tutto bene, ma i nervi in giallo sullo slide, loro hanno problemi. come dicevo, sono i nervi che trasmettono questo ipertono dal cervello fino a tutti i muscoli e anche questa sensazione strana di cui si parlava prima sulle dita. Vedete tutti questi piccolissimi nervi che vanno fino alla fine di ogni dita. Slide. Poi ci sono i tendini, i tendini, le vedete, vedi la mia frescia? No. Ok, ok. I tendini sono le parti bianche, questi… Questi indicati con la freccia, non so se vedi la mia… No, no… Niente, però lo indichiamo per colore, si capiscono. Sono bianchi e partono dell'avambraccio, vanno sotto questo piccolo tunnel che si chiama il tunnel carpale, forse avete sentito di questa patologia che è ancora un'altra patologia e questo, il tunnel carpale e vedete tutti questi tendini che anche loro vanno fino all'estremità di tutti i dita e sono loro che fanno il movimento. Allora, i tendini loro stessi sono tutti perfetti, ma è il muscolo che comanda… non so se si dice così… Sì, sì. …che comanda ai tendini che hanno problemi. Slide. E vediamo qui questi muscoli che hanno troppo ipertono, questi muscoli sono i muscoli della parte anteriore dell'avambraccio e sono loro che hanno troppo ipertono, i muscoli che flettono per esempio il polso e i muscoli che flettono le dita. Il problema viene dei muscoli e non dei tendini. Allora, la deformità viene ovviamente della spasticità, di questo aumento del tono e poco a poco questo aumento crea problemi sul muscolo stesso. Il muscolo all'inizio è tutto bene, tutto normale, ma con questo ipertono permanente comincia a fare un po' di retrazione dei muscoli. E allora abbiamo già due problemi, la spasticità e questa retrazione dei muscoli. Vuol dire che se in un modo o in un altro modo posso diminuire la spasticità, è una parola tanto difficile da dire, se in un modo io diminuisco la spasticità, se c'è già retrazione muscolare, il muscolo non potrà tornare indietro e rilassarsi completamente perché il muscolo stesso è diventato retratto. E poi poco a poco questo può anche fare la retrazione nelle articolazioni, perché se una articolazione, diciamo il polso per esempio, è stata fletta per anni ed anni, alla fine tutta la cassula, i ligamenti, tutto questo attorno all'articolazione si inrigidisce e anche l'articolazione può avere problemi. E vedete già qui come è importante tutto questo trattamento di fisioterapia, di tutori, eccetera, che prevedono questa retrazione sia dei muscoli sia delle articolazioni. Su questo, tante persone ci chiedono rispetto all'età, quando è l'età in cui, soprattutto in bambini che hanno avuto gli esiti di un danno alla nascita o perinatale, quando è l'età in cui si cominciano già a vedere delle retrazioni? Quindi non nel bambino piccolissimo, nel neonato, ma forse quando comincia proprio le prime attività di prensione? È variabile, dipende ovviamente dell'importanza del danno, se il muscolo tira, tira, tira tanto e sempre ovviamente la retrazione sarà più precoce e a volte vediamo bambini già a quattro, cinque o sei anni con retrazioni dei muscoli e su questo dobbiamo essere molto molto attenti perché ci vuole assolutamente prevenire e impedire questa retrazione. A volte non riusciamo e in questo caso è una indicazione di fare la chirurgia. Ne parleremo un po' più avanti, ma in questo caso bisogna fare interventi se tutti gli altri metodi non riescono a vincerla. Quindi prima di arrivare alla chirurgia però c'è tanto allungamento quindi di questi muscoli, tutte le attività che fanno i bambini quando fanno fisioterapia, quindi stretching, quindi quello è utile a prevenire una retrazione. Questo è importante, non facciamo mai chirurgia senza aver fatto tutta la terapia prima. E allora torno alla quarta causa della deformità che è questo squilibrio muscolare di cui parlavamo prima. Alcuni muscoli, prendiamo ancora l'esempio del polso, alcuni muscoli tirano troppo e gli altri muscoli che devono tirare nell'altro senso diventano tanto deboli che a un certo punto non possono più funzionare. e c'è questo squilibrio che peggiora ancora le deformità perché loro, questi che devono tirare in alto, non sono più capaci di andare contro questo ipertono. Allora, a un certo punto, in alcuni casi, bisogna rimettere qualcosa al posto di questi muscoli tanti deboli. Quindi entrano in competizione i due muscoli, chi tira troppo e chi tira poco. All'inizio sì, ma questi con l'ipertono vincono sempre e allora questi muscoli che devono tirare diventano molto molto deboli e alla fine non hanno più funzionalità. Allora, qui sono le quattro cause della deformità. Allora, per capire tutto questo bisogna esaminare i pazienti e noi tutti sappiamo com'è difficile esaminare un bambino. Un bambino non rimanerà seduto per ore e ore con questi medici che valutano i muscoli, che guardano le cose. E veramente è una cosa importante da imparare. Facciamo questi esami sempre come un gruppo, insieme, e così non c'è tanto tempo perso. C'è il medico, c'è il fisioterapista, l'ergoterapista. Sì, in Italia usiamo la figura anche del terapista occupazionale. Ok, la stessa cosa. Di solito è una persona che conosce molto bene il bambino perché ha lavorato tante ore con lui e ci aiuta molto di avere la terapista occupazionale con noi. Anche sappiamo che questa spasticità spesso aumenta con l'emozione, con la fatica, con il freddo e allora bisogna avere un ambiente molto dolce. Rilassato. Sì, rilassato, poco rumore dove facciamo l'esame. Usiamo anche molto video durante l'esame o anche prima dell'esame e così chiediamo al bambino di fare giochi, eccetera. E solo con l'osservazione di come gestisce le cose impariamo molte cose. Slide. Allora, la spasticità. Vediamo che il muscolo resiste al movimento contrastato. Questo è un film. Puoi attivare il film? In realtà no, mi spiace ma non riesco a farlo partire. L'ho già provato ma... Peccato, peccato. Forse avrei dovuto mandare anche il film. Non ti preoccupare, ce lo racconti. Non è tanto importante. E alla fine il muscolo resiste e alla fine finisce per cedere. Questo che mostravo in questa slide, il muscolo resiste, ma alla fine finisce per cedere. Slide. Eccoci. Ok. Al contrario, quando c'è retrazione muscolare non cede mai. Rimane contratto per causa di questa retrazione muscolare. Non può andare più avanti. Questo è permanente. E come dicevo bisogna capire bene la differenza. Slide. A volte è difficile fare la differenza e allora abbiamo questo aiuto sia dei blocchi motori sia soprattutto della tossina. La tossina botulinica fa una paralisi temporaria di questi muscoli spastici. Allora, iniettiamo la tossina dentro i muscoli spastici e così vediamo se c'è della retrazione muscolare. Nei stessi muscoli perché la spasticità vince la spasticità ma non ha nessuna azione sulla retrazione. Ho messo questa slide per dire che nella maggior parte dei casi facciamo della tossina quasi sempre prima di fare l'intervento, ma non per migliorare la situazione, ma soprattutto nel nostro caso per capire bene qual è la parte della spasticità e qual è la parte della retrazione muscolare. Ci spieghi un attimo, Caroline, che cosa intendi per blocco motore oltre alla tossina? Forse forse questo non è... Il motore è una cosa che utilizzavamo quando non c'era la tossina, che è una medicazione... Un farmaco che viene iniettato come... Un farmaco anestesiante, che fa anestesia e che mettiamo vicino al nervo e allora il nervo diventa tutto bloccato, anestetizzato. Anestetizzato, sì, quindi come se togliessi per un periodo la spasticità, quindi... E blocca la spasticità, ma il problema con questi blocchi motori è che la loro azione dura mezz'ora o qualcosa e allora abbiamo solo poco tempo per capire la situazione. Per quanto riguarda la tossina, come lo sapete, dura di solito tre o quattro mesi e allora è ovviamente un tempo molto più lungo per esaminare, capire, vedere le cose e rivalutare il paziente in un ambiente diciamo ecologico, un ambiente familiare e vedere cosa succede quando questa spasticità è stata abbassata o tolta. Ci sono anche, come dicevo, le deformità articolari, vedete in questa foto in alto un caso molto molto grave di un bambino, un ragazzo di 10 a 7 anni che veniva di un paese, voi dite del terzo mondo? Si dice paese in via di sviluppo. In via di sviluppo, non tanto sviluppato, devo dire, e lui non aveva avuto niente trattamento e è arrivato con questo polso completamente bloccato. In questo caso c'è da fare, ma gli interventi sono diversi. L'ultima cosa che si vede è, invece di rigidità, può essere l'iperlassità di qualche articolazione. Come si vede in queste dita, questa deformazione si chiama col di segno, come il cole del segno. Del segno. E' dovuto anche ai stessi problemi, alcuni muscoli che tirano troppo e altri che sono troppo deboli. Quindi sempre su questa parte, cioè che tutto ciò che controlla l'articolazione di queste due dita è molto importante, mi sembra di capire, nel funzionamento del nostro corpo umano. E come l'ho scritto qui, viene anche questa deformità sul police, su questa articolazione. E a volte si vede il police che va indietro, tanto, tanto indietro e ovviamente, come dicevi, impedisce la presa tra il police e l'indice. E la quarta parte è questo squilibrio muscolare tra questi muscoli spastici. Vedete qui come il polso è tanto fletto perché i muscoli dell'avambaccio della parte anteriore tirano tanto. E quando, questa è una bambina di otto anni, quando lei provi a tirare in alto, non riesce perché questi muscoli che si chiamano estensori sono tutti deboli e paralizzati. Slide. Allora, c'è ancora una cosa molto importante in bambini che si chiamano i movimenti anormali. Si parla di distonia, si parla di atletosi, di corea, ci sono cose diverse, con nomi diversi, ma sono movimenti non controllati dal paziente. Anche qua non funziona la video, sì? No, purtroppo no, non funziona. Però è molto interessante questo perché anche all'interno della paralisi cerebrale infantile ci sono dei casi appunto come di distonia, di atassia, che però non vengono molto studiati perché sono numericamente più piccoli rispetto invece alle emiplegie o le dipleggie. E allora questi movimenti anormali non vengono proprio dai muscoli, ma vengono dalla parte del cervello. C'è un'assenza o una modificazione del controllo di ogni gruppo di muscoli l'uno sull'altro. Di solito c'è sempre questo controllo, quando fletto le dita c'è un controllo dei muscoli estensori che loro non funzionano, viene allo stesso tempo. Quando fletto, quando chiudo la mano, il mio cervello dice ai muscoli estensori di rimanere zitta. Fermi, sì. Sì, fermi. E così funziona bene perché altrimenti andrebbe in tutte le direzioni. E in questo caso, è il caso di questa bambina, non c'è più questo controllo. Allora, quando voglio venire su qualcosa per prenderlo, i muscoli estensori cominciano anche a mettersi in azione e non riesco a fare niente. Questi casi sono casi in cui la nostra chirurgia non può aiutare perché il danno, come dicevo, viene dal controllo al livello del cervello e la chirurgia della mano, dell'atto superiore, non può aiutare. Allora, questi casi, sfortunatamente, sono casi in cui non ci vuole fare la chirurgia funzionale. In questo caso, Caroline, però questi movimenti anomali non danno origine a deformità, no? Rimangono o nel tempo poi si instaurano anche delle posture sbagliate? È ancora un po' più complicato perché ci sono movimenti anomali ma c'è anche la spasticità. Se un gruppo di muscoli tira, tira, tira sempre può venire con deformità. Ma hai ragione, con questi movimenti anomali c'è movimento in ogni senso, in ogni direzione, c'è meno, di solito c'è meno retrazione muscolare, eccetera. Ok. Slide. E così alla fine, questo è un po' il riassumo di tutto quello che ho già detto, così dopo questo esame molto preciso troviamo, decidiamo quali pazienti hanno bisogno di chirurgia. Un numero grande di questi pazienti non hanno bisogno di chirurgia o anche la chirurgia non può aiutarli. E come dicevo, il primo trattamento è questo trattamento con la fisioterapia, tutori, tossina botulina. E la chirurgia viene come un complemento, si dice così? Sì. Complemento di tutta questa terapia. Slide. Soltanto una curiosità invece sui tutori, abbiamo detto che è importante cercare di evitare le retrazioni il più possibile, quindi ha senso mettere tutori di posizionamento, quindi contrastare per un certo numero di ore al giorno o nella notte questo continuo input alla spasticità del muscolo e quindi cercare di rilassarlo attraverso un tutore che tenga bloccata la mano. O provoca l'effetto contrario. Allora, hai ragione. È una cosa un po' delicata perché ovviamente quando si vede che una deformità comincia a venire, la prima idea è di mettere un tutore per impedirla. Ma se il tutore è troppo duro o tira troppo può fare la reazione opposta. Allora, se tiriamo troppo su un muscolo spastico può aumentare la spasticità. Allora c'è sempre questo equilibrio da trovare tra migliorare la deformità e non creare una spina irritativa che può aumentare la spasticità. A me piace molto proponere questi tutori di notte perché secondo me non ha senso di mettere un tutore sulla mano ogni giorno perché in questo modo non possono utilizzare la mano. Ma ci sono casi, per esempio, casi con il polso molto flesso che impedisce di utilizzare la mano. Allora, in questi casi le terapiste occupazionali possono mettere un piccolo tutore che mantiene il polso in una posizione giusta e così il bambino può utilizzare la mano. Allora, ci sono diversi tutori con diversi obiettivi e bisogna scegliere ancora in questa cosa il tutore giusto per l'azione giusta. Ma non direi che i tutori peggiorano le cose, no. Alcuni tutori non ben pensati, non ben realizzati possono dare problemi, ma nella maggior parte dei casi sono benefici. Sono efficienti e efficaci anche in relazioni. Sì, efficaci e fanno bene. Grazie, grazie per il chiarimento. Ok, allora penso che abbiamo finito con la parte dell'esame e dell'indicazione della chirurgia e se non hai altre domande possiamo parlare un po' della chirurgia proprio, di cosa facciamo. Cosa ne dici? Assolutamente sì, ti dico anche su questo, magari per orientare la conversazione nel tempo che ci rimane, le cose che interessano di più ai genitori. Una domanda che ci viene posta in maniera frequente è anche qual è il limite di età inferiore e il limite di età superiore. Quindi c'è un'età, soprattutto nei casi di traumi alla nascita in cui è opportuno procedere, quindi una certa età dello sviluppo e poi fino a quando posso procedere. Tu ci parlavi anche di casi di stroke, di ictus dell'adulto. Quindi sicuramente questo tema dell'età e poi ne abbiamo anche già parlato della spasticità e flaccidità. Nei casi di flaccidità rispetto invece alla spasticità, quale delle due è più difficile da correggere? Ma magari ce lo racconti tu in questa seconda parte. Allora sì, ne parlerò, ma la flaccidità veramente non è tanto un problema della paralisi cerebrale. La flaccidità si vede in altre patologie tipo trauma, quando un nervo è stato tagliato e allora c'è la flaccidità nei muscoli. Si vede anche in un'altra patologia che si chiama la tetraplegia, quando la medula, si dice la medula? Il midollo. Il midollo, scusi, è stato dannato. Danneggiato, sì. Danneggiato al livello del collo. Vedete che in tutti questi casi dove il danno è distale al cervello fa la flaccidità. Invece tutti i casi dove il danno è stato al livello del cervello dà piuttosto la spasticità. E allora in questo caso di paralisi cerebrale abbiamo spasticità e non tanto flaccidità. Quindi per chiarire, anche quando noi vediamo un polso flesso, dipende da una eccessiva spasticità di questi muscoli e dal fatto che gli altri muscoli invece non lavorano bene, ma non si parla di flaccidità? No, per esempio un esempio abbastanza frequente di flaccidità che fa la stessa deformazione è la frattura dell'umero. Quando c'è una, ma non viene tanto in bambini, soprattutto in adulti, quando è stato fratturato l'umero, il nervo radiale che è qui, che si accura qui, può essere danneggiato. E allora fa la flaccidità, ma perché i tendini e i muscoli che tirano il polso in alto vengono tutti paralizzati e non c'è nessuna spasticità. Se prendi la mano, la mano è tutta flaccida, tutta morbida e è una cosa molto, molto diversa che non ha niente da fare con la paralisi cerebrale. Allora è una cosa che dimentichiamo. Va bene, molto chiaro. Grazie. Ok, allora vediamo un po' gli interventi che possiamo fare e dopo parleremo un po' di questa cosa di età. Slide. Allora, la prima cosa quando facciamo chirurgia è capire cosa possiamo fare e cosa vogliamo fare. Ovviamente ogni volta che si può fare proveremo a fare della chirurgia funzionale, come dicevo prima, funzionale vuol dire che questa chirurgia aiuterà il bambino, il paziente ad avere una mano che funziona meglio per prendere le cose, per gestire le cose. Ma a volte non si tratta di chirurgia funzionale perché non si può fare, non c'è abbastanza cose o muscoli per farla e in qualche caso facciamo della chirurgia solo per il comfort. Per esempio un polso molto flesso che dà dolori possiamo mettere il polso in una posizione migliore sapendo che non darà più funzionalità ma almeno toglierà il dolore via anche per motivi di igiene e di nursing in casi gravi. E poi c'è questa terza indicazione che abbiamo chiamato la chirurgia della vita sociale. È una chirurgia che viene fatta soprattutto in teenagers, in ragazzi che hanno avuto questo danno, che hanno vissuto con il loro danno, che si sono abituati alla funzionalità che hanno, soprattutto quando c'è una emiplegia. E loro vengono da noi all'età di 12, 13, 15 solo perché hanno voglia di migliorare l'aspetto del rato. Per esempio questo gomito fletto loro l'odiano quando cominciano ad avere rapporti con ragazzi della loro età, con ragazze e ci chiedono di migliorare l'aspetto. Non la funzionalità, perché funzionano così da tanti anni che per loro non è più un problema e bisogna capire la loro domanda, che è una domanda giusta. Mi sembra assolutamente normale di chiedere se si può migliorare un po' il soffletto, un gomito tanto fletto, ma sono interventi un po' diversi con il scopo di migliorare l'aspetto, di rendere un'articolazione più debole, più normale, più dritta e sapendo, non so come dire, che non cambierà la funzionalità o non tanto. Siete più chirurghi estetici in quel caso lì? Sì, ma non mi piace questa parola di estetica perché veramente non penso che si può parlare di estetica in questo caso. E allora abbiamo scelto questa parola di fragilità sociale. Il quarto obiettivo di cui abbiamo già parlato è la prevenzione delle deformità articolari. Se si vede che poco a poco, un anno dopo l'altro, il gomito per esempio diventa troppo flesso, malgrado tutto il trattamento di fisioterapia, allora bisogna intervenire per tagliare questo problema perché altrimenti crea sempre più problemi gravi e difficili da modificare. Allora, andiamo sui interventi propri, vai un'altra. Allora, prendiamo esattamente i stessi gruppi come durante l'esame. La prima cosa è diminuire la spasticità. Si può fare con la chirurgia? Sì, certo che si può fare con la chirurgia. E dicevo che io mi sono impegnata a un nuovo tipo di interventi e questo di cui parlerò per qualche secondo. Allora, abbiamo già parlato di blocchi motori, della tossina botulinica, che sono mezzi non chirurghi, direi, di diminuire la spasticità. Su questo, c'è stato un intervento riguardo al tema delle vibrazioni. Non so se in Francia è così frequente, però qui in Italia ogni tanto si sente parlare di altre simulazioni vibratorie che fanno diminuire la spasticità, ovviamente in periodi molto limitati, quindi non prolungati nel tempo. Non so se su questo voi avete esperienza di queste vibrazioni focali? Io personalmente non ho esperienza, ne ho sentito parlare, ne ho sentito diverse presentazioni. Ci sono vibrazioni, ci sono anche altri modi di diminuire la spasticità in modo non operativo. Il problema è che alcuni funzionano, ma funzionano solo per il tempo in cui viene utilizzato e quando si ferma, quando non viene più fatto, la spasticità di solito torna indietro. e allora ovviamente i pazienti, le famiglie preferirebbero una soluzione definitiva dove non ci vuole tornare all'ospedale ogni mese, ogni non so quante volte, perché veramente è un impegno enorme per bambini e famiglie e allora questo è il problema con un numero di questi trattamenti che sono efficaci solo per un tempo limitato e il loro effetto non dura. Sono dei palliativi, diciamo, della cura che poi comunque richiedono. Sì, cerchiamo trattamenti durabili che durano per sempre, diciamo. Allora, la tossina ne abbiamo parlato, vi ho già spiegato come per noi è un strumento diagnostico che ci aiuta a fare la differenza tra spasticità e retrazione, ma anche a valutare questi altri muscoli che si chiamano antagonisti, gli altri muscoli, e capire se invece sono paralizzati paralizzati o forse non sono paralizzati ma sono impediti di funzionare per causa della spasticità. E allora, come dicevo, l'utilizziamo quasi sempre. Slide. E allora questa terapia chirurgica di cui parlavo si chiama la neurectomia parziale. è neurectomia, tagliare il nervo, ma parziale, tagliando solo una parte del nervo. Infatti, questo intervento è stato diffuso da un chirurgo italiano molto conosciuto in suo tempo che si chiamava Brunelli, è morto l'anno scorso. E' grazie a lui che io ho cominciato a fare questo tipo di interventi. E vedete qui in questo disegno sulla destra, che è al posto dove il nervo, che è qui in nero, entra nel muscolo, che è in rosso, tagliamo più o meno le due terzi del nervo. E questo ha come obiettivo di diminuire la spasticità, ma senza paralizzare il muscolo. La spasticità va via, ma l'effetto del muscolo, l'azione del muscolo rimane. Adesso abbiamo un'esperienza abbastanza grande di questa tecnica e funziona sfortunatamente come lo dico. La spasticità si abbassa molto o sparisce e la funzione, l'attività del muscolo rimane. C'è qualche effetto collaterale, mi immagino, a livello di sensibilità? Diminuisce qualcos'altro insieme alla spasticità? Buona domanda, signora. I nervi, come l'abbiamo detto, hanno una parte motore, questa parte che va nei muscoli, e una parte sensitiva che dà la sensazione. La ragione per cui facciamo l'intervento molto vicino al muscolo è perché a questo livello la parte sensitiva è già separata e allora non fanno nessun danno alla parte sensitiva che altrimenti potrebbe dare dolore o sensazione di formicoli, eccetera. Allora è un intervento di microchirurgia. Quando facciamo questo intervento abbiamo strumenti speciali e come si chiama? Occhiali chirurgici che ingrandiscono la vista. Sono tutti interventi in anestesia totale, sì? No, 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 non bisogna di anestesia totale. Scusi, spero che non c'è nessuno a chi non piace vedere sangue, eccetera, ma ho messo questa slide per farvi capire bene come si presenta. Qui si vede nella parte alta questo nervo, in questo caso è il nervo mediano. Vedete come il nervo è fatto di fascicoli, vedete tutti questi fascicoli e alla parte più bassa si vede questi quattri fascicoli che sono insieme e che vanno nel muscolo. In questo caso vanno in uno dei muscoli che flettono il polso, che si chiama il flexor carpiradialis. Vedete come a questo livello, con i nostri strumenti e gli occhiali chirurgici, abbiamo la possibilità di vedere tutti questi fascicoli e di tagliare due terzo dei fascicoli. Slide. Dopo l'intervento, non bisogna ricovero in ospedale o forse solo una notte e mettiamo una medicazione semplice per 15 giorni e poi ricomincia la riabilitazione. Vuol dire che è un post-operatorio molto semplice, non c'è tutore, non ci sono cose difficili o impegnativi. Che cosa permette di recuperare un intervento di neuretomia parziale? Allora, permette di abbassare il tono muscolare troppo alto, permette di diminuire la spasticità. Per esempio, se quando ho fatto l'esame clinico di un gomito, ho visto che c'è solo spasticità. Questa spasticità può venire vinta. Ti ricordi come dicevamo che quando c'è spasticità pura, senza retrazione muscolare, allora è solo un ipertono. E questo tono del bicipite e di questi muscoli troppo forte. Se io abbasso il tono di questi muscoli che flettono il gomito, allora i muscoli estensori, antagonisti, possono di nuovo funzionare perché non c'è più questo tono troppo forte e migliora in un modo molto importante la funzionalità del gomito. Questo vuol dire che non c'è retrazione muscolare e che non c'è paralisi degli altri muscoli antagonisti. E per quanto riguarda la mano, io andando a togliere questo tipo di spasticità, recupero la prensione, recupero la supinazione, la forza che è l'altro. E' sempre lo stesso argomento per il polso. Se i muscoli che flettono tirano troppo e basta, che non c'è retrazione, che non c'è paralisi, facendo questo permette al polso di funzionare in un modo non normale, ma molto meglio. E così permette alla mano di funzionare molto meglio perché ovviamente se provo a prendere qualcosa con la mano fletta in questo modo è molto difficile. Se semplicemente mettendo il polso in una posizione migliora mi permette di prendere le cose. Ok? È chiaro. Non so se lo diremo dopo, ma a volte bisogna fare diverse cose allo stesso tempo perché se c'è spasticità e retrazione e paralisi bisogna fare qualcosa su ogni di queste cause della deformità. E per questo motivo che sono interventi non difficili ma bisogna riflettere molto prima di intervenire per capire le cause della deformità e intervenire su ogni causa della deformità. E qui scusi ma era anche un film di Marti mostrando esattamente quello che ho appena detto con un risultato di una spasticità pura. Allora, adesso se ci sono retrazioni muscolari facciamo altri interventi. non andremo in tutta la tecnica ma possiamo in alcuni casi fare una tenotomia solo tagliare il tendine, possiamo anche fare della disinserzione i muscoli si sono inseriti sull'osso e possiamo disinserire il muscolo e possiamo anche fare dell'allungamento all'aggiunzione tra il tendine e il muscolo. Si vede qualche schema qui nella slide. Allora, vedete qui un intervento molto utilizzato in bambini che si chiama l'apponeuretomia dei muscoli è un nome un po' difficile ma è un modo di allungare l'unità muscolo-tandinea tagliando l'aponerosi del muscolo, slide e altri modi sono di allungare sia il tendine si vede in alto, si fa un taglio e si allunga il muscolo o uno che a me piace perché è veramente semplice, utile e adattabile all'aggiunzione tra il muscolo e il tendine allunghiamo a questo libera vedete che ci sono diversi modi di fare questo allungamento slide stessa cosa per il pollice si parlava prima di questo pollice nel palma e allungando questi muscoli della commissura si permette di aprire diciamo il pollice slide e questo è un risultato di questo pollice in palma solo aprendo i muscoli permette a questi muscoli estensori che non potevano più funzionare per motivo dell'ipertono di funzionare di nuovo ma vuol dire che qui c'erano questi muscoli estensori che non erano paralizzati se i muscoli estensori sono paralizzati bisogna anche nel stesso tempo rimettere un muscolo che fa questo movimento di estensione slide in qualche caso in cui la deformazione è molto molto grave come questo bambino di cui parlavo prima non è più possibile di fare interventi su come diciamo le parte molle sui muscoli, tendini, nervi e bisogna veramente lavorare sull'osso e questo si chiama artrodesi quindi blocchiamo l'articolazione in una posizione migliore non si fa mai o quasi mai nel gomito perché il gomito ha bisogno di muovere il gomito bloccato sul punto di vista funzionale non va bene ma per il polso si può bloccarlo sia per motivi funzionali se la mano ha un po' di funzionalità in questo caso non era il caso perché lui non aveva niente movimento ma qui era per motivi di dolore, di igiena e di nursing per la famiglia e diventa molto più facile gestirlo, aiutarlo e non c'era più dolore slide e allora in casi dove c'è anche paralisi come dicevo per l'esempio del pollice bisogna trasferire un muscolo per rendere questo movimento perso perché il muscolo è paralizzato ci sono molte difficoltà con questo intervento perché bisogna trovare un muscolo che funziona bene efficace, non troppo spastico e che può venire prenduto che può essere preso senza fare danno senza fare danno e allora le indicazioni di questo tipo di interventi trasferimenti tendinei non vengono fatti tanto spesso e la decisione viene fatta durante l'intervento si valuta la funzionalità del muscolo o prima? prima bisogna capire prima se possiamo farlo e che muscolo prendere per trasferirlo in questo caso utilizziamo l'elettromiografia per aiutarci a scegliere il muscolo giusto ma è l'unico caso più o meno in cui l'elettromiografia è utile allora slide era anche un caso per mostrarvi come funziona ma in questo tipo di interventi il postoperatorio è un po' più pesante ci vuole immobilizzare in un tutore l'articolazione per un mese e poi fare la riabilitazione e tra le sedute continuare l'immobilizzazione per almeno un mese e dopo di notte per qualche mese quindi un mese è il tempo in cui l'altro muscolo si innesta poi definitivamente nella nuova posizione la cicatrice si fa tra tutti i due muscoli e così diventa molto più stabile più duraturo nel tempo non si può non conosco la parola giusto lacerare bisogna aspettare per un mese dopo un mese si comincia a fare la riabilitazione del nuovo muscolo ma tra le sedute conserviamo ancora un tutore per un mese ci sono veramente due mesi con tutore ti parlo di qualcosa invece più uno sguardo al futuro in termini di innovazione nel tuo campo esistono trapianti di muscoli diciamo artificiali o comunque da altra fonte che non sia appunto lo stesso organismo a volte i genitori chiedono se loro possono dare un muscolo per il loro bambino non abbiamo la tecnologia per fare questo e non si può fare ancora ma ci sono dopo questi interventi di neuretomia parziale c'è molto pensiero su come utilizzare meglio i nervi per aiutarci in questo argomento di trasferire un muscolo perché forse invece di trasferire un muscolo si potrebbe trasferire un nervo che sarebbe un intervento molto più semplice ma questo è il futuro non abbiamo ancora tanta esperienza su questo bene slide penso che sia più o meno sì allora parliamo forse sì forse parliamo un po' di età ovviamente questi interventi non danno mai una mano un mano normale e questo è molto importante per tutta la famiglia per il bambino per il bambino per i genitori di capire è un mano diciamo di sostegno e rimanerà un mano di sostegno non sarà mai un mano per toccare il pianoforte per suonare il pianoforte o fare cose estreme veramente fa da un miglioramento ma non da una funzionalità normale e se il bambino o la famiglia ha un'aspettativa un'aspettativa troppo alta forse è meglio non operare perché alla fine saranno delusi e anche noi saremo scontenti perché il scopo non sarà raggiunto raggiunto grazie allora bisogna capirlo e quello che possiamo ottenere dipenda ovviamente della funzionalità iniziale una mano che ha non funzionalità niente dove niente funziona non potrà divenire una mano funzionale potremo aiutare potremo metterla in una posizione più normale potremo diminuire il dolore eccetera ma non diventerà mai funzionale all'opposto una mano già funzionale ma diciamo con un polso un po' fletto si vedono molti di questi casi dove la mano funziona possono prendere le cose ma solo che non si può mettere il polso in alto sono casi molto più semplici e con interventi semplici possiamo migliorare molto la funzionalità allora non ci sono due casi simili e questo è molto importante capire a volte vengono famiglie dicendo ah ma voi avete fatto sul bambino Carlo un miracolo e voglio lo stesso miracolo sul mio bambino no non funziona così non sono due casi simili per ogni caso ci sono delle possibilità che sono diverse e la terza cosa è questa cosa dell'età per rispondere alla tua domanda se vogliamo fare della chirurgia funzionale bisogna farla presto perché perché un bambino funziona impara a funzionare con le due le due mani utilizzando cosa può utilizzare e si si abitua a funzionare in un certo modo ci sono tanti genitori che si lamentano perché la mano non viene utilizzato niente e fanno tutto con l'altro atto superiore e ovviamente il cervello si abitua a questo e più le con gli stimoli cioè più diamo stimoli all'utilizzo ma questa abitudine con gli anni diventano più difficili da cambiare è molto diverso di fare una chirurgia funzionale in un bambino di sei anni che ha vissuto solo sei anni con questo handicap con questo danno in cui il cervello ha la capacità di cambiare per utilizzare la mano che è un ragazzo di 15 anni che ha vissuto tanti anni con un schema non non so se dite un schema di funzionalità e per lui dopo 15 anni diventa troppo difficile cambiare anche se gli diamo la possibilità di funzionare in un modo meglio ma se per 15 anni non ha utilizzato questo braccio e ha fatto tutto con l'altro per lui è troppo difficile prende troppo tempo troppo energia di ricominciare di imparare a funzionare e questo lo vediamo veramente nella nostra esperienza ogni giorno i risultati sono migliori in bambini piccoli rispetto alla funzionalità che in ragazzi più alti e questo quindi piccoli per te l'età media per un programma di un danno alla nascita può essere 5 6 anni l'età minima si cominciamo più o meno a 6 anni perché a 6 anni un bambino può capire quello che proponiamo e può aderire si aderire alla proposta riabilitativa fare la riabilitazione eccetera eccetera è un po' difficile fare riabilitazione post chirurgia in un bambino più piccolo sì e questo è un messaggio che provo sempre quando vado in congressi eccetera all'estero a spiegare ai medici sia medici di base sia neurologi sia neuropsichiatri infantili o pediatri eccetera e che la chirurgia non viene alla fine dopo che tutti altri mesi hanno fallito sì hanno fallito no è uno di tutti i trattamenti che possiamo proponere e veramente se pensiamo che la chirurgia sia utile bisogna farla presto farla diciamo dopo sei anni di vita è anche anche vero Caroline però che sul paziente più adulto certamente per un periodo di tempo ho perso l'uso di di quell'arto però il paziente adulto o un giovane adulto anche per dare un messaggio di speranza è un paziente molto più collaborante no che comunque è già interessato di suo rispetto invece ad un ad un bambino quindi questo per chiederti invece caso limite di età a livello superiore c'è un un età oltre la quale non ha non ha senso o i benefici sono così pochi rispetto invece all' effetto di un intervento che è un intervento non reversibile quindi un intervento che persiste nel tempo no facciamo anche interventi su adulti con paralisi cereale ma qui ancora di più bisogna definire gli obiettivi veramente bisogna noi sapere cosa fare e farli capire cosa possiamo portare e cosa non possiamo portare e ne ho ne ho operato tanti specialmente in Italia perché come dicevamo non vengono all'età di sei anni li vediamo più tardi ma ho in mente diversi casi dove abbiamo rimesso il gomito in una posizione migliore il polso in una posizione migliore sia per motivi di vita sociale come dicevamo ma sia anche per migliorare un po' una funzionalità che esiste ma vedo anche casi che vengono all'età di 20 anni 25 anni con un arzo che non funziona non c'è niente funzionalità e chiedono cosa c'è da fare più o meno non c'è tanto da fare non c'è tanto almeno sul punto di vista funzionale funzionale sì forse si può mettere un membro in una posizione più giusta più bella più sociale ma sul punto di vista funzionale quando non c'è niente di funzionalità non possiamo non possiamo portare la funzionalità della mano dove non c'è bene direi tutto tutto molto chiaro non so se Caroline c'era qualcos'altro forse c'era un'ultima slide sì vuoi dire due parole su questo e poi ci avviamo alla chiusura sì c'è c'è anche l'importanza della famiglia ovviamente in bambini nessuno viene fatto senza l'accordo e la come dire l'aiuto e la collaborazione della famiglia tutti questi interventi sono un impegno per tutta la famiglia e la famiglia deve essere d'accordo con il proietto deve essere convinta e deve capire che ci sarà della riabilitazione che durerà che durerà perché l'adattamento può essere un po' lungo a tutti questi interventi e allora veramente questo è molto importante capire capire i motivi e la determinazione diciamo della famiglia nel progetto e anche il fatto che capiscono bene cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare per essere realisti realisti sì corretto sul risultato e questo è nostro impegno far capire bene cosa si può fare non dare speranza irrealista bene mi sembra molto molto onesto come come discorso un'ultima precisazione caro Limpa noi lasceremo anche i tuoi contatti i contatti del gruppo Manus così per chi si vuole rivolgere in Italia questi in Italia sono interventi che vengono fatti anche all'interno di cliniche convenzionate quindi la famiglia non deve pagare per questo intervento perché viene comunque rimborsato è così è corretto sì sì gli interventi sono nell'ospedale che si chiama Villa Salus a Mestre che è un ospedale convenzionale va bene senti noi ti ringraziamo ancora una volta perché sei stato molto disponibile è come aver avuto una lezione un keynote di un di un congresso scientifico a casa adesso lo distribuiamo direttamente a casa e niente ci auguriamo anche noi che poi si diffonda tanto più un'informazione giusta anche su questo settore che poi le famiglie abbiano tutti gli elementi per prendere le decisioni in maniera più consapevole grazie ancora di tutto caroline è stato un piacere rimango alla tua disposizione se bisogna se ci sono altre domande o qualcosa volentieri grazie ancora il mio scusi che il mio indirizzo in Italia l'hai o non l'hai? noi nel pubblicare la presentazione possiamo lasciare anche i punti di contatto te lo mando benissimo grazie ancora a presto arrivederci ciao ciao